Siamo pronti per calcolare il codice di controllo, ovvero l'ultima lettera del nostro codice fiscale. Questa è la seconda parte di questo argomento. Ciao, bentornato sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina. Eccoci di nuovo alle prese col nostro codice fiscale. Dovremmo riuscire con questo video a completarne il calcolo. Bene, nel video immediatamente precedente a questo, trovi il link qui sotto in descrizione, e trovi i file che io utilizzo in questi video scrivendo a esercizi.excel.associazione.maggiolina.it oppure accedendo al sito Amici Maggiolina. Bene, dicevo, nel video precedente abbiamo ottenuto questo numero. In pratica abbiamo scritto questa formula, ora la selezioniamo, eccola qua, è anche molto lunga, diciamo, ed è poi questa formula, che di fatto prende ogni singola lettera che abbiamo estratto sino ad ora, ogni singolo carattere perché comprende anche i numeri, e li confronta con una tabella che noi abbiamo nel foglio controllo, eccoli qua, assegnandogli un valore numerico. Questo valore numerico, o meglio, la somma di questo valore numerico, in questo caso, con questi dati, da 125. Bene, ora la regola di calcolo del codice di controllo, che per noi è questa V, tanto per sapere dove dobbiamo arrivare, dice che questo numero deve essere diviso per 26. Bene, allora cancelliamo questa formula che non ci serve più, e cancelliamo anche questa formula che non ci serve più. Questo numero, dicevo, deve essere diviso per 26, e a noi interessa il resto di quella divisione. Quindi proviamo a fare degli esempi. Se io scrivo tranquillamente in questa posizione, uguale 125 diviso 26, ottengo questa divisione ed ha 4,807, eccetera. Però non mi fornisce il resto, perché qui utilizza i decimali. Mentre io invece vorrei il resto di questa divisione, se la divisione potesse essere fatta solo per interi. Per ottenere questo resto facilmente, ho bisogno di una funzione, di una formula speciale, ed è semplicemente questa. Uguale, resto, aperta parentesi, il numero o la cella in questione, ora io scrivo 125, ma in futuro dovremo fare in modo che questo 125 faccia riferimento a una cella, a una formula, a un qualcosa, punto e virgola, e poi 26, il numero per il quale deve essere diviso. Chiudo parentesi, premo invio, e ottengo 21. Ecco, 21 è il resto di 125 diviso 26, ed è il numero che mi interessa, perché questo 21 deve essere cercato all'interno di una tabella apposita e una volta trovato corrisponderà a una lettera, presumibilmente la V, se abbiamo fatto tutto giusto. Andiamo a vedere, vado in controllo, ho la tabellina dei codici di controllo che ho ricavato dall'agenzia delle entrate e cerco il numero 21, eccolo qua, e corrisponde infatti alla lettera V. Quindi noi non dobbiamo far altro che utilizzare un cercavert, una delle formule che ci permettono di cercare verticalmente, che abbiamo utilizzato tante volte, per cercare in questa colonna il 21 e farci restituire la V. C'è però una particolarità. Noi abbiamo detto nel video precedente che questi numeri sono considerati dei caratteri, perché in questo modo anche lo 0 può essere utilizzato, mentre invece se rimanevano dei numeri eravamo in difficoltà con questo. Quindi abbiamo dovuto far sì che questi numeri siano caratteri, quindi parole, non numeri. Per cui ora, per il nostro Excel, questi numeri sono parole. E li abbiamo messi in ordine alfabetico di conseguenza. Infatti, se ci fai caso, non c'è 1, 2, 3, 4, 5, ma c'è lo 0, poi tutti gli 1, poi i 2, e poi eventualmente i 3, eccetera, se ci dovessero essere. Quindi io, per fare il cercavert, non posso usare questo 21, perché questo 21 è un numero. Per poterlo utilizzare devo prima trasformarlo in un carattere in modo che il tipo di dati che ho in mano io e quelli in cui vado a cercare siano uguali. Bene, per fare questo non devo fare altro che utilizzare questa funzione, per cui vado a scriverla prima di quella che mi permette di ottenere il resto e si chiama testo. Aperta parentesi, tutto quello che c'è contenuto al suo interno, punto e virgola, devo dire in che formato voglio ottenere questi dati e metto il numero 0 per farmi restituire un carattere. Proviamo a vedere se ho fatto tutto bene. chiudo la parentesi e premo invio. Perfetto. E ora non devo fare altro che utilizzare il cercavert. Quindi la mia formula cerca.vert aperta parentesi, cerco questo dato, ovvero il 21, e quindi lascio questa formula, punto e virgola. Ora devo dirgli dove cercare e nel video precedente abbiamo dato un nome alla nostra tabellina e l'abbiamo chiamata controllo. Quindi scrivendo controllo di fatto io fornisco una serie di dati che permettono ad Excel di andare nel foglio controllo e cercare esattamente in una determinato insieme di celle. se non lo hai visto guarda il video precedente così ti sarà più chiaro e a questo punto dico punto e virgola restituiscimi il valore della seconda colonna. Chiudo la parentesi, premo invio e ottengo la mia lettera V che è appunto il codice corrispondente alla numero 21. Perfetto. Ora non devo far altro che applicare questa formula a questa cella in modo da avere tutto all'interno di una stessa cella. Per cui faccio in questo modo. Mi posiziono dove voglio il risultato. Tutta questa formula serve a ottenere il 125. Quindi devo racchiudere tutto nella funzione resto. Lo facciamo per gradi. Quindi mi posiziono qui. Scrivo la funzione resto. Aperta parentesi. tutta questa formula equivale al 125. Vado in fondo a questa formula. Metto il punto e virgola. Scrivo il numero 26 e chiudo la parentesi. In questo modo dovrei ottenere il nostro numero 21. Premo invio. Bene. Ora questo resto deve essere trasformato in testo. Per cui mi posiziono sempre all'inizio. Scrivo la funzione testo. Aperta parentesi. Vado giù in fondo perché tutto questo serve a ottenere il 21. Punto e virgola. Zero. Fornisco quindi il formato in cui voglio i dati ovvero un carattere. Chiuso a parentesi. Premo invio. E il mio 21 si sposta sulla sinistra perché ora è testo e non più un numero. Ora applichiamo il cercavert. Quindi mi riposiziono qui. riparto sempre dall'inizio. Cerca punto vert. Questa volta lo seleziono premendoci sopra due volte. La parentesi è già stata aperta. Tutta questa formula serve a ottenere il nostro 21 ovvero quello che devo cercare come carattere. Punto e virgola. Dico dove cercarlo in controllo. Punto e virgola. devi restituirmi il valore della seconda colonna. Chiusa parentesi. Invio per vedere se funziona tutto. Perfetto. E ora abbiamo ottenuto anche il codice di controllo che è la lettera V e questo finalmente è il nostro codice fiscale finito della persona. Possiamo controllare ogni singolo componente che abbiamo fatto noi con riferimento quello che abbiamo calcolato online e risulta giusto. Ora non ci resta che fare delle prove col nostro codice fiscale magari così lo conosciamo e quindi inseriamo in questa posizione i nostri dati per vedere se il codice fiscale viene calcolato correttamente ma anche con i nostri parenti familiari o amici per vedere se funziona tutto. Fammi sapere nei commenti com'è andata. Ci vediamo presto. Ciao! Quando guardo un video faccio sempre sapere alla persona che lo ha fatto se mi piace oppure no e se mi piacciono i suoi video mi iscrivo subito al canale. A presto! A presto!